Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video esperimento con il DJI Tello. Sì perché per la prima volta proverò a far volare il DJI Tello con lo Xiaomi Redmi Note 5. Quindi faremo un video, giusto per capire, con un telefono Android che monta Oreo 8.1, come si comporta nei video il DJI Tello rispetto all'iPhone 8 Plus che uso normalmente. Quindi questo video è fatto più che altro per capire questo telefono con Oreo 8.1, come si comporta nei video con il DJI Tello. Quindi adesso riprendiamo questo video familiare perché alla fine riprenderò mia figlia che va con la bicicletta, ma giusto per capire com'è la qualità delle immagini con questo telefono. Grazie a tutti. 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 Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao. 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 Grazie a tutti.